the x beh già il nome per la campagna di lancio di questo nuovo su 100 per cento elettrico della casa di monaco di baviera è un grosso statement per capire appunto cosa può fare a livello tecnologico ea livello di mobilità 100 per cento elettrica appunto la casa dell'elica noi oggi abbiamo deciso di provarla grazie agli amici di bmw ultramotor matera in questo ultimo test drive spero tra l'altro di riuscire a trovare parcheggio perché vi anticipo l'auto è lunga quasi cinque metri con un pacco batteria interessante ma soprattutto con un mare in tecnologia che scopriremo insieme infatti direi di non esitare ancora e risaltare subito a bordo per capire un po di cosa si tratta il design dell'x è stato sicuramente un tema polarizzante durante il lancio di questo sub che lo si ami o lo si odi però non si può negare che in bmw l'abbiano resa un'auto cattivissima nonostante o grazie anche alle sue dimensioni merito sicuramente il frontale alto e massiccio con il moderno doppio rene in design 3d ovviamente pieno che integra i radar per il rilevamento di ciclisti e pedoni il punto di forza non è tanto il radar però quanto il materiale in cui è fatta questa kidney grail una specifica plastica che si auto rigenera con il calore andando a riparare eventuali urti o graffi dati dai sassolini presi in autostrada i fare anteriori sono sottili e integra una scelta tecnologia full led o laser mentre i muscoli del cofano si artigliano in un unico punto centrale in corrispondenza dei reni proprio qui un altro dettaglio vi ricordate la serie 7 di james bond nel film il domani non muore mai il logo bmw si sollevava per dare spazio ad un seghetto elettrico per recidere i cavi in acciaio dei nemici di 007 e per mettergli la fuga anche sulla ix si può sollevare questo badge ma per riempire il serbatoio del liquido tergivetri tempi che cambiano il progetto ix è stato definito da bmw come born electric un'auto costruita ex novo sulla piattaforma clar utilizzando acciaio alluminio plastica e carbonio il passo è proprio da auto elettrica ben tre infiniti metri con una lunghezza totale di 4,95 una larghezza di 1,96 ed un'altezza di 1,69 mantiene quindi le dimensioni ma anche le proporzioni degli imponenti suv tedeschi nulla di troppo aerodinamico se non grazie alle linee più levigate rispetto ad una x5 con meno dettagli e più trucchi per migliorarne la resistenza all'area le maniglie ad esempio sono integrate nella fiancata ma in negativo siamo noi ad entrare con la mano e premere un pulsante non l'ora ad uscire l'offmeister king qui è appena accennato accompagnato nel nome dell'auto e nel posteriore si trovano due importanti splitter in bronzo come tanti dettagli in giro per la ix questo gioco di cattiveria mista pulizia è accentuato da altre due caratteristiche i finestrini sono frameless come sulle bmw più sportive e i fari posteriori full led sul nero sono praticamente due squarci nel buio molto scenografici il baule ad apertura e chiusura elettronica ed hands free è regolare e geometrico ha una soglia alta ma senza scalini o intoppi anzi ci sono ganci e pulsanti per abbattere i sedili e avere un fondo totalmente piatto passando da 500 a 1750 litri di capacità non è una sponsorship vi sono sincero era da tanto che non mi sedevo alla guida di un'auto così l'abitacolo ve lo riassumo in solo due parole interior design puro ragazzi colori e abbinamenti sono tra i più ricercati su questa vettura se paragonata al resto delle competitor del mercato persino in questo allestimento che porta delle nuance abbastanza sobria perché alla fine l'abitacolo è rivestito di sensatec pelle e plastiche scure quindi tonalità molto dark tutto ciò viene spezzato da dei dettagli in bronzo che vanno a richiamare le linee sempre bronzate che troviamo all'esterno della x che stiamo provando insieme mi riferisco soprattutto alla fascia obliqua che corre per lo sportello e che racchiude i pulsanti dello sblocco della seratura ma anche per lo sblocco elettronico della portiera quindi proprio per aprirla sempre sul pannello porta ci sono le regolazioni elettroniche dei sedili anteriori che hanno un elemento in comune con l'iDrive quindi il manopolone per controllare l'infotainment e anche il selettore di marcia beh ragazzi sono praticamente dei cristalli e sono stupendi gli ultimi due elementi appunto iDrive e selettore di marcia si trovano incastonati nel legno del tunnel centrale un tunnel centrale sospeso che racchiude con il feedback aptico anche i pulsanti touch quindi a sfioramento per controllare le modalità di guida ma anche la retrocamera con tutte le sue funzionalità anzi la telecamera 360 con tutte le sue funzionalità e altre caratteristiche del sistema infotainment ma va detto ci sono tante altre caratteristiche che fanno respirare un'aria di puro premium all'interno di questa x sarà l'insonorizzazione l'ottima qualità costruttiva o l'eccellente qualità dell'impianto audio armand cardon che tra l'altro ha gli speaker non solo sui pannelli porta sulla plancia ma anche nei poggiatesta che sono integrati nel design tra l'altro lato mi avvise dello stop nel design proprio dei sedili ma non solo perché secondo me l'elemento che dona più pulizia in generale a questo abitacolo è la totale assenza di pulsanti fisici sulla plancia praticamente non c'è nulla c'è solo l'hasard lo sbrinamento di dei vetri e nient'altro proprio un'unica fascia che racchiude le bocchette della ventilazione il volante dalla forma esagonale molto caratteristica alle giuste dimensioni quindi un ottimo raggio fa manovrare l'auto in un nulla veramente in un fazzoletto di terra per quanto l'auto si allunga quasi 5 metri e ha sole due razze con sulla sinistra il controllo di tutti gli adas e sulla destra la strumentazione digitale dietro il volante e anche i media quindi musica telefonate e controlli vocali quindi va detto che con tutte queste regolazioni elettroniche trovare la propria dimensione all'interno della bmw x è semplicemente un gioco da ragazzi è complice anche il fatto che i montanti sono larghi ma non troppo e abbiamo un terzo finestrino utile senza l'ingombro dello specchietto retrovisore esterno anche tenere sott'occhio l'esagerato muso della vettura non è nulla di impossibile per quanto riguarda la visuale posteriore beh guardarsi nell'unotto è praticamente inutile perché si trova a quasi due chilometri di distanza da noi ma devo dire che non serve nemmeno perché l'auto ha tutta una serie di adas come per esempio la visuale a 360 anche da remoto proprio della vettura con anche dei sensori molto ben tarati che semplicemente ci fa guardare indietro in maniera virtuale sempre sicura in ogni momento a proposito di dietro come stai laggiù ben ritrovato non ci vedevamo dall'anno scorso battutono vabbè al dire di tutto qui dietro sto veramente in una lounge di un volo emirates praticamente perché ho tutto ciò di cui potrei aver bisogno quattro prese usbc totali solo nella parte posteriore messe sugli schienali anteriori oltre al controllo del clima automatico bizona posteriore e il riscaldamento dei sedili posteriori la bocca d'accesso è regolare mi permette di entrare in maniera molto confortevole e adoro il fatto che i materiali scelti rispecchiano fedelmente quanto troviamo a livello di qualità nella parte anteriore della bmw ix bocchette sul montante centrale speaker dell'impianto armand cardone insomma sto comodissimo e staremo comodissimi in tre qui dietro se ci fossimo adesso ma per livello di covid non è il caso perché abbiamo un tunnel centrale completamente piatto in generale penso che quest'auto sia una bmw veramente spaziosissima anche grazie a degli stratagemmi soprattutto psicologici come per il fatto che nella tua parte anteriore la plancia è spiovente e del tutto priva di elementi quindi aria l'abitacolo come avrete capito è un trionfo di minimalismo digitale lo schermo curvo è realmente sospeso unisce una strumentazione digitale da 12,3 pollici e l'infotainment touch con diagonale da 14,9 un sistema fluido con implementazione dei widget e migliaia di funzioni regolabile anche dall'iDrive il navigatore alla realtà aumentata mentre attivando le telecamere si possono vedere eventuali ostacoli del parcheggio visualizzando la nostra ix in terza persona proprio come nel simulatore tra le altre chicche gli ugelli lavacamere anteriore e posteriore la connettività è wireless con i dispositivi apple e android ma se non dovesse bastare ci sono due usb c e una 12 volta avanti 4 usb c dietro e una 12 volta nel bagagliaio sempre a proposito di integrazione con gli smartphone in ogni momento abbiamo controllato le statistiche della vettura con la app my bmw l'abbiamo potuto aprire e chiudere controllarne lo stato di carica mentre era collegata ad una colonnina e persino programmarne il ritiro gli amici di ultramotor ce l'hanno letteralmente portata a domicilio con il servizio bmw pick up and delivery 3 le versioni di bmw x tutte x drive a trazione integrale si parte dalla 40 protagonista del test con un pacco batterie da 76 kilowattora nominali e 71 effettivi che alimentano un motore elettrico da 240 kilowatt circa a 325 cavalli capace di sviluppare 630 newton metro e portare questo suv da 2440 kg da 0 a 100 in 6,1 secondi fermandosi ad una velocità di punta di 200 chilometri orari la ix 50 monta invece un pacco batterie da 111 kilowattora nominali e 105 effettivi condiviso con l'ultima nata della divisione id bmw la ix m60 la lettera m per le auto bavaresi rende subito noto di cosa si parla e qui non facciamo eccezione 620 cavalli 0 100 in 3,8 secondi 250 chilometri orari limitati di velocità massima e un picco di 1100 newton metro di coppia in launch control il tutto con un'autonomia superiore a 550 chilometri con una sola carica voglio parlarvi subito della dinamica di guida e lasciare per ultimo in quest'analisi della ix l'elemento di cui probabilmente mi sono follemente innamorato ma appunto andiamo per ordine perché l'auto è stata ben studiata a livello di bilanciamento dei pesi molto stabile grazie al posizionamento del pacco batterie sul pianale e anche grazie alle quattro ruote motrici nonostante comunque il comportamento della vettura sia quello puramente di un SUV con un leggero coricamento laterale nelle curve più sostenute e un deciso beccheggio nelle partenze più poderose soprattutto in modalità sport ma no spoiler lo schema delle sospensioni prevede un doppio braccio oscillante all'anteriore e un multilink al posteriore con un ottimo smorzamento delle asperità e fidatevi di noi perché possiamo essere una garanzia perché purtroppo qui a bari ce ne sono tante di asperità per testare appunto le sospensioni di un'auto in prova capitolo freni che è quello che come avrete capito è forse tra i più importanti in un'auto elettrica perché non solo porta a fermare una vettura ma anche a caricare un minimo il pacco batterie un'anticipazione è quella del fatto che non ho praticamente notato differenze nella pressione del pedale tra la fase di ricarica e la fase di mordente e questo è veramente ottimo non sento un vero e proprio pulsante appunto nel pedale del freno sulla sinistra ma poi la frenata rigenerativa a due livelli infatti nella modalità drive in D l'auto riconosce automaticamente e adatta la frenata del freno motore ecco scusate il gioco di parole in base alle condizioni di guida e anche in base a chi ci precede magari nel traffico mentre se selezioniamo B dal selettore in cristallo del tunnel centrale l'auto assume appunto la posizione massima di frenata rigenerativa questo tra l'altro il riconoscimento ancora una volta dello stop nella strumentazione davanti ai miei occhi ma appunto tornando a parlare della frenata rigenerativa questa inizia a fermare l'auto con molta delicatezza per poi passare ad una fase più decisa e arrivare ad uno stop totale della vettura anche l'acceleratore è stato tarato bene perché è molto modulare si può dosare come si deve è da considerare su un'auto elettrica il fatto che la coppia è istantanea e quindi dover scaricare sebbene su tutte e quattro le ruote motrici tutti quei newton per metro non deve essere un lavoro facile e quindi bisogna assolutamente assicurarsi che l'utente finale della vettura quindi un utente medio magari perché non parliamo di una super sportiva non rimanga sopraffatto appunto da tutta la coppia dell'auto stessa e quindi è deciso soprattutto in modalità appunto sport ma non bruciante ed eccoci quindi arrivati a quello che il mio capitolo preferito perché le modalità di guida sono tre e si controllano appunto dal tunnel centrale abbiamo personal che è quella equilibrata efficiency che è quella più parsimoniosa e sport beh in sport cambia tutto tutto a livello non solo di guida ma anche di percezioni perché il volante si fa più duro più reattivo così come anche la risposta del motore i fianchetti del sedile del guidatore si stringono ed è una sensazione fighissima anzi a proposito facciamolo subito sport benissimo ho sentito appunto i fianchetti stringersi è stato attivato come leggo sull'head up display il dynamic traction control e vi devo dire che entra in gioco una persona molto importante soprattutto se siete appassionati di cinema se vi faccio qualche nome tipo il gladiatore inception dunkirk batman anche per esempio no beh questa bmwx è il suo ultimo capolavoro non l'ultimo nella sua carriera eh sto parlando di Hans Zimmer che ha studiato e concepito l'iconic sounds delle bmw elettriche come la ix e la i4 beh ragazzi davanti a me io non ho nessuno quindi lascerò parlare l'auto piuttosto che io anzi la lascerò cantare con questa sinfonia studiata dal grandissimo Hans Zimmer spero si senta perché tra l'altro di frusciere o dinamici ce ne sono un po' l'auto è pur sempre un SUV molto imponente ma credetemi crea una dimensione veramente coinvolgente io non sono andato neanche troppo sparato perché sì la potrei fare un'accelerazione da 0 a 100 in 6,1 secondi come dichiara la casamadre però è molto più coinvolgente questo crescendo quasi sinfonico orchestrale sentite un po' è semplicemente bellissimo semplicemente bello ora non mi resta altro da fare che trovare un punto un po' più sgombro per farvi sentire anche l'accelerazione appunto da 0 a 100 in un punto libero sicuro sempre nei limiti ovviamente quindi devo trovare una strada estraurbana e appunto provare appunto tutta la coppia gli altri 600 Nm di coppia di questa BMW ix la strada è libera liberissima l'asfalto è abbastanza buono quindi direi che possiamo fare chiudere questa parte di guida dalla BMW ix con un'ultima accelerata dai ragazzi sarà che appunto è un'auto da 2 tonnellate 3 ma la sento molto più coinvolgente di tante auto elettriche ben più brucianti di questa quindi proprio la distribuzione il bilanciamento tutto quanto anzi lo spostamento dei carichi di quest'auto è da paura e devo dire che non va molto bene questa cosa perché quest'auto è elettrica e dovrebbe spingermi perlomeno a cercare il risparmio energetico e invece per un appassionato questa cosa non va proprio bene perché spinge sempre appunto scusate il gioco di parole a spingere sul gas tra mille virgolette quindi direi che prima che l'auto rimanga a terra no bugia ne abbiamo tanta di batteria ancora il caso di darci una calmata dopo quest'ultima accelerata è di tornare alla base per le conclusioni di questo video del look ne abbiamo parlato della guida anche ora resta da capire quanto ecologica ed efficiente le x infatti un SUV elettrico da due tonnellate e mezzo sulla carta lascia ben poche speranze all'effettivo ambientalismo su ruote BMW però non è d'accordo la ix è costruita rigorosamente in Baviera nello stabilimento di Dingolfing dove la linea produttiva è alimentata da fonti energetiche rinnovabili e dove ogni ix è costruita utilizzando materiali ed elementi chimici che rispettano l'ambiente e l'uomo come litio e cobalto provenienti da fonti controllate che permettono di rispettare i diritti dei lavoratori che le estraggono l'architettura a 400 volt della vettura permette la ricarica fasta a corrente continua con un picco di 150 kilowatt risultando in un rabbocco dal 10 all'80% di energia in 31 minuti dichiarati noi le abbiamo messe alla prova le colonnine stradali a corrente alternata portandola dal 35 al 100% in 7 ore e 43 minuti ricaricandola di 50,87 kilowattora sebbene la strumentazione indicasse un'autonomia di oltre 330 chilometri con il 100% di batteria la stessa registrata nel test è molto simile a quella dichiarata noi l'abbiamo messa alla prova con una temperatura media dato importante da considerare di 16 gradi esterni i consumi si sono attestati sui 15 kilowattora su 100 chilometri a 70 chilometri orari per poi salire a 20 kilowattora per 100 chilometri ad una velocità di 90 chilometri orari fissi in extraurbano e 25 kilowattora a 120 chilometri orari BMW X rappresenta sicuramente un grandissimo esercizio di stile da parte della casa bavarese con un sacco di soluzioni tecnologiche che sicuramente andranno un po' a spianare la strada per i modelli un po' più piccoli si spera appunto della casa di Monaco di Baviera noi abbiamo provato la X40 quella con il pacco batteri più piccolo con un prezzo di partenza di 84 mila euro con un po' più di soldini quindi parliamo di una base di 100 mila euro ci si potrà portare a casa la X50 quindi quella con il pacco batteri da 111 kilowattora che permette di fare oltre, dichiarato ovviamente, 600 chilometri di autonomia con una sola carica ora però vogliamo sapere i vostri pensieri riguardo questa X qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel like noi ringraziamo voi per aver visto questo video e il concessionario BMW Ultramotor di Matera per averci dato l'opportunità di provarla e cos'altro fare? vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale di cliccare sul campanello per ricevere tutte le notifiche sui prossimi contenuti e test drive oltre a seguirci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente siamo veramente ovunque compreso il nostro sito internet trovarci è semplicissimo perché siamo ovunque grazie a tutti grazie a tutti